La Valtellina c'è con i suoi operai, i suoi tecnici, impegnati nel grande cantiere aperto a Genova per la costruzione del ponte sul Polcevera, simbolo della rinascita della città. Il mese di ottobre si è aperto con un momento dal grande valore simbolico. Due enormi gru, già impegnate per lo smontaggio del ponte Morandi, hanno sollevato a 50 metri di altezza sulle pile 5 e 6 la prima campata del nuovo viadotto. È lunga 50 metri e ha un peso di 500 tonnellate, la prima parte di impalcato alla quale se ne aggiungeranno altre 18 che saranno varate nei prossimi mesi. Opera pubblica con un progetto firmato da Renzo Piano che Salini in pregiro e Fincantieri Infrastructure stanno realizzando attraverso la società per Genova. E proprio durante la cerimonia di inaugurazione alla quale ha preso parte il premier Giuseppe Conte è stato sottolineato il ruolo svolto dai dipendenti della Cossi Costruzioni, azienda valterinese nata nel 76 e entrata dalla primavera scorsa nel gruppo Salini in pregiro. Oggi qui queste pile le sta tirando su un'azienda che si chiama Cossi Costruzioni. Era un'azienda che aveva subito la falcidia, il disastro di mancati pagamenti, mancata giustizia, una serie di fattori che in qualche modo hanno afflitto il nostro paese. Ecco noi l'abbiamo presa in questo progetto Italia. L'abbiamo risollevata e oggi sta costruendo per il paese a tempo di record queste pile. Io penso che questo sia il più bel esempio che noi possiamo avere di dire che cosa succede quando tutti insieme ci mettiamo a lavorare. La rinascita di Genova, segnata dalla tragedia della ponte Morandi, passa anche attraverso il nuovo ponte sul Polcevera. Per Cossi Costruzioni l'impegno in terra Ligure assume un valore particolare. È uscita dall'orbita di Condotte, gruppo che attraversa una fase difficile e dai primi di aprile la quota di maggioranza di Cossi è stata acquistata da Salini in pregilo. Ruolo chiave nella delicata trattativa che ha portato al rilancio della società valteinese, quello svolto dalla Banca Popolare di Sondrio che ha una quota del 18,25%. Grazie a tutti. Grazie a tutti.